Priolo Gargallo, NAS dei Carabinieri, farmacia sospesa per test antigenici rapidi Covid-19. Nell'ambito dei controlli in corso di svolgimento sull'intero territorio nazionale circa la corretta attuazione delle disposizioni relative a tamponi e test rapidi per la rilevazione Covid-19, il NAS Carabinieri di Ragusa, a seguito di un controllo presso una farmacia di Priolo, ha segnalato all'autorità sanitaria i titolari per inottemperanza le norme di sicurezza nell'esecuzione dei tamponi rapidi, in quanto i locali e i dispositivi individuali utilizzati nel corso dei prelievi non risultavano idonei. Il direttore generale dell'ASP di Siracusa ha disposto la sospensione immediata dell'esecuzione dei test antigenici rapidi presso la citata farmacia, fino a nuova riorganizzazione e in attesa di verifica da parte degli ispettori. Al titolare della farmacia sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.000 euro.